Promosso dal Ministero del Lavoro e gestito da Invitalia, il Fondo Rotativo Nazionale Self-Employment mira alla promozione delle iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso il credito agevolato per gli iscritti al programma Garanzia Giovani. Con una dotazione iniziale di 114,6 milioni di euro, il Self-Employment prevede finanziamenti a tasso zero per i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare un'attività imprenditoriale. Le agevolazioni sono rivolte agli under 29 iscritti al programma Garanzia Giovani che non hanno lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio e formazione, i cosiddetti nette, e che hanno completato la fase di accompagnamento allo start-up di imprese della durata di 80 ore. I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità in diverse forme. Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte da un massimo di 9 soci. Sono ammesse le società costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché inattiva e non ancora costituite a condizioni che vengono costituite entro 60 giorni dall'eventuale ammissione dell'agevolazione. Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive. Possono essere finanziate le iniziative che prevedono spese comprese tra i 5.000 e i 50.000 euro in tutti i settori della produzione dei beni, fornitura di servizi e commercio anche in forma di franchising rimborsabili in massimo 7 anni. Lo sportello per presentare le domande di accesso al fondo si è aperto alle ore 12 del 1 marzo. La domanda può essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Sarà sempre l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese a valutare le domande, concedere gli incentivi e verificare l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati.